Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video-lezione, per la precisione, la quarta. Oggi, tuttavia, i destinatari della mia lezione non saranno né ragazzi né adulti, bensì bambini, in quanto ho la grandissima fortuna di essere maestra di inglese di scuola elementare. E quindi oggi vi propongo un'attività che io ho svolto in aula con i bambini di circa 7 anni, insomma, una seconda elementare e devo dire che ho avuto anche molto successo. Naturalmente io ve la propongo, ad esempio, se volete passare come genitori un pomeriggio diverso con i vostri figli, magari gli state cercando di insegnare un po' l'inglese, oppure magari se siete babysitter o aiutocompiti, può essere benissimo un metodo alternativo, efficace e anche molto divertente per iniziare ad approcciarsi alla lingua inglese. Allora, innanzitutto vi recito questa poesia che io ho trovato all'interno di un libro e ho scelto di insegnare ai miei bambini questa poesia perché presenta come lessico anche i colori e di conseguenza, in seconda elementare, di solito, insomma, sono argomenti noti ormai ai bambini, tanto che è vero, al giorno d'oggi ormai i colori li imparano già all'asilo. E poi, soprattutto, è anche breve perché sono solo quattro versi. Il titolo è Blue Sky e fa Per trovare il testo, naturalmente, potete contattarmi oppure semplicemente provare a digitare il titolo online, però vi confesso che non ho fatto una ricerca incrociata, per cui non so se la vostra ricerca potrebbe andare a buon fine oppure no. Provate, altrimenti sentitevi pure liberi di contattarmi se non siete in grado di traslitterare la poesia. Allora, il metodo di lavoro che io ho adoperato è stato il seguente. Ho preso il testo della poesia e l'ho scritto alla lavagna, invitando i bambini a dirmi quali delle parole della poesia, della filastrocca per meglio dire, conoscessero già. E, come vi ho già anticipato, i colori, ad esempio, white, green, blue, li conoscevano già. E quindi erano molto invogliati dal conoscere le parole che invece non conoscevano. E poi forti del fatto che una parte del lessico della filastrocca lo sapevano già. Quindi li ho invitati a fare delle letture a voce alta, verso dopo verso, e leggendoli una volta da soli, una volta tutti insieme, per farsi coraggio, naturalmente sempre dopo una mia lettura, in modo che gli rimanesse bene in testa la pronuncia corretta. In particolare, vi faccio presente che se troverete la filastrocca online, è probabile, anzi sicuramente non la troverete come io ve l'ho proposta, perché l'ultimo verso era un po' differente, l'ho modificato perché fosse più facilmente pronunciabile dai bambini. Quindi, una volta poi fatta ricopiare la poesia sul quaderno e invitato i bambini a leggerla insieme a me, sempre con il sorriso, con entusiasmo, e vedendo che i bambini erano molto coinvolti, ho deciso di aggiungere una difficoltà, che in questo caso però è un piacere a questo lavoro, perché ho invitato i bambini ad esprimere se stessi e ad aiutarmi, naturalmente mettendola in questo modo la faccenda, datemi un aiuto, bambini, a inventare una sorta di recita per questa poesia. E quindi sono venuti fuori dei gesti molto semplici, ma che hanno appassionato molto i bambini, per cui pronunciando il primo verso, blue is the sky, i bambini hanno deciso di alzare in alto le mani e di muovere le dita. Stessa cosa però rivolgendosi verso il pavimento nel pronunciare il secondo verso. Per il terzo invece, che recita White are the clothes, hanno deciso di fare una sorta di mulinello con le mani, mentre per l'ultimo verso hanno deciso di simulare una sorta di passeggiata. Ed è stato molto bello, perché poi li ho invitati a turno, oppure a gruppi, oppure addirittura tutti insieme, ad alzarsi in piedi e pronunciare, mimando, insieme la filastrocca. E loro davvero si erano molto appassionati e volevano cercare di imparare la memoria proprio per poterla recitare davanti ai loro compagni e davanti a me, che sempre col sorriso li incitavo a fare del loro meglio. E i risultati sono stati bellissimi, perché vi dirò, anche ad alcune lezioni di distanza, i bambini ancora mi ripropongono questa filastrocca, Blue Sky, e sono ancora molto contenti. E addirittura quando gli ho detto, ma l'avete recitata di fronte ai genitori? Tutti contenti mi hanno risposto di sì. Quindi, insomma, ho avuto i miei risultati. E infine, vi faccio presente che, per terminare il lavoro, ho proposto ai bambini di ricopiarla su un foglio bianco, un tipico foglio A4, e di illustrarla. Quindi, un ulteriore esercizio di copiatura, così, giusto perché avessero una maggior consapevolezza della scrittura inglese, che sappiamo bene, è ben diversa, è ben diverso lo scritto dall'orale. E poi li ho invitati a illustrare questo Blue Sky, l'erba verde, le nuvole bianche, e sono venuti fuori proprio degli ottimi risultati. Quindi, un lavoro su più fronti. Hanno potuto disegnare, esprimere se stessi attraverso la gestualità, a pronunciare questa filastrocca, e migliorare, naturalmente, la loro pronuncia e il loro inglese, ampliando le loro conoscenze di lessico. Ecco, questa è l'attività che io vi propongo di fare con i bambini. All'incirca mi ha impegnato un'ora e mezza, ma certamente, in base al livello di approfondimento che voi volete dare al lavoro, potete impiegarci più o meno tempo. Comunque, il divertimento, se riuscite a fare entusiasmare il bambino a questa attività, sarà assicurato. Tanto che, vi ripeto, erano proprio i bambini, certo, su mia incitazione gli dicevo, dai, prova a ripetere adesso la filastrocca senza leggere la lavagna, erano proprio motivati a riuscire a dirmela il più correttamente possibile. Quindi, non mi resta altro che augurare a voi e ai vostri carissimi bambini un buon lavoro, ma soprattutto un buon divertimento. Per qualsiasi tipo di consiglio, o se volete il testo della filastrocca, o se volete che io vi proponga altre attività legate all'insegnamento dell'inglese in modo divertente, e perché no, in un certo senso alternativo, non esitate a contattarmi. E se vi è piaciuta questa video-lezione, condividetela. Chissà che possa essere un insegnamento prezioso anche per altri genitori e per altri bambini. Ciao a tutti, alla prossima video-lezione!